Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! E' abbastanza alto per questo gioco perché è un metroidvania, non è il mio genere, tuttavia aveva delle importanti innovazioni, ma lo andiamo a vedere, perché l'ho appena iniziato, la critica lo ha un pochino azzoppato, ha preso dei 6, dei 7, però secondo me questo è un gioco che può piacere. E non piacere a tutti sicuro, costa 25€ come offerto di lancio, 19,99€, ma lo potete trovare anche sul Game Pass come vi avevo detto in passato. Allora, noi praticamente ci troviamo in questa location, che è una villa dove siamo finiti all'interno insomma, e la particolarità, a parte che ho già preso degli oggetti, lo sto giocando col pad, ho provato con la tastiera ma è un po' scomodo in alcuni frangenti. In sintesi qui, noi possiamo andare a ruotare la manopola, quindi cambiare la frequenza, e quindi andare di conseguenza a cambiare la musica. E possiamo regolare il volume, ma questa è una banalità. Dopodiché abbiamo la possibilità invece di interagire con oggetti, quali ad esempio questo cassetto. Questo cassetto ha la possibilità di ruotare questi quadranti. Potrei tentare di farlo e di azzeccarlo, ma non lo farò. La porta invece ha questo simbolo. Questo simbolo, ma non ho idea di come poterlo aprire, probabilmente serve una chiave. La particolarità, vi dicevo, è che possiamo andare nel borsello e andare a vedere tutti gli oggetti, dai consumabili all'equipaggiamento, insomma le varie cose, e vedete che possiamo andare a esaminarli. Quindi in questo caso vedete che ho trovato questo, questo non l'avevo notato prima. Ti prendo una foto, ma se non ti piace certo non mi importa. Questa è una foto della compagna di nostro padre, su cui noi ci stiamo informando. Non vi dico molto della storia perché non ha senso, insomma, ce lo giochiamo così come viene. Abbiamo trovato un pigiamino e questo pigiamino non sappiamo perché non aveva figli, quindi non sappiamo nulla. Abbiamo trovato anche questa chiave con un simbolo, con una specie di L sopra. Magari potrebbe essere utile. Questi sono frammenti, questi sono probabilmente dei ricordi che dovremmo recuperare. Abbiamo un dossier che abbiamo recuperato, questa era, vedete che, non credo sia tradotto, tra l'altro. Dossier Fox Benedict. Questo è un coltello, sono le nostre armi, queste. Questo è un amplificatore danneggiato e questo è un portafoglio dentro cui avrevo trovato delle cose importanti. Abbiamo un disco in vinile che noi possiamo, Plot Twist, che sono gli sviluppatori, che ringrazio per avermi concesso di portare questo titolo. Gramofono, lo possiamo selezionare in un vinile e lo mettiamo sopra, ascoltare. Tutto molto stile Lovecraftiano, ma in realtà poi dicono nelle recensioni che non abbia molto di Lovecraftiano, ma in realtà anche solo il fatto che noi abbiamo un'entità che ci parla, che ci dà una mano e che parla con voce da oltretomba, è fighissimo per me. La cosa un po' scomoda del controllo con la tastiera, adesso vedo se riesco a shiftare. Vedete che abbiamo il tasto 1, 2, 3, 4 per usare invece delle frecce direzionali, insomma gli oggetti che abbiamo intorno, che non è la cosa più comoda di questo mondo. Poi abbiamo l'attacco veloce, l'attacco pesante e la parata. Sono tasti che io onestamente non ricordo più. Quindi si possono andare a vedere in impostazioni, vedete che possiamo scegliere, vedete il compagno con la B, tentacolo secondario, il mirare con quello, bloccare, utilizzare oggetto, scorrere trappola, salta l'arampica e attacca attacco pesante. Attacco pesante è semplicemente tenere premuto e attaccare. Io mi domando se possiamo usare quella chiave, ma non credo fosse una chiave da poter utilizzare. Comunque c'è anche la possibilità di schivare, ma questo poi lo vedremo dopo. Ora vedete che qua io posso fare porta e poi uso oggetto, ma non c'è niente, non ha neanche il simbolo della L, quindi non mi resta che o salire al piano di sopra, dove mi pare di aver già visto tutto. Perché poi si può zoomare e andare a vedere. Ma c'era una porta che io ho detto, la tengo lì, la faccio vedere in video, che è questa. La cosa interessante è che non è tutto così platform, così metroidvania, ma con enigmi ed elementi di investigazione. In questo caso abbiamo del sangue una porta, io usiamo il non sangue, una brutta sensazione. Questo è il nostro amico spirito. Chiave con simbolo, ah abbiamo usato la chiave, ok abbiamo aperto la porta e siamo finiti qua sotto. Graficamente è carino. Sta avanzando lentamente perché abbiamo trovato un corpo. Ti è venuto per saltare, no. Ho perso mio padre prima che potessi conoscerlo. Posso sentire la tua respirazione benedicti, il cadavere che chiama il padre, il suo dolore, il suo terrore, non sono ancora scomparsi. La scolietà è così fitta e la foglia è così forte che riesco a malapena resistere. Eccolo lì è l'essere lì, il nostro compagno, insomma lo chiamano così. Nessun segno di colluttazione. Sì, forse abbiamo trovato, cerchiamo il nostro padre, abbiamo trovato morto, c'è un po', non c'è molto pathos in questo. Però tant'è. Non tutto è perduto, posso guidare attraverso i suoi ricordi, benedict. È il pretesto per cominciare l'avventura. Non so cosa stia facendo. Ah, mi ha portato dentro i suoi ricordi. Questa è una peculiarità, l'avremmo visto anche durante la conferenza, del gioco. Non so se... Ok, sì, penso stesse caricando. E questo è un ricordo. E qua diventa un pochino più... Ok, qua attacchiamo, vedete? E abbiamo anche la possibilità di sparare, perché quando abbiamo raggiunto un tot livello della barra in alto, allora, i punti nero si sono alla vita. Abbiamo la possibilità di... di... di guararci, un punto alla volta, usando la freccia su. Abbiamo anche la mappa, che stiamo esplorando, dobbiamo andare avanti. E una volta che la barra è piena, possiamo usare la mega pistola. Una ripugnata e disgustosa massa d'inchiostro concentrato, raggumata e trasformata in abominio. Vediamo se possiamo già sparare. Sì. Bellissimo. E così invece attacchiamo normalmente, tenendo il premuto, diamo l'attacco forte. Ok. Di sotto c'è qualcosa. Ma non capisco cosa posso fare. Ma bisogna fare il giro di qui. C'è il compagno qua, che ci consente di... non ho ancora capito fare cosa, ma... però qua possiamo salire. Nota del conundrum? Conundrum? Una pagina nello scritto che descrive le chiavi. Sembra che all'ultima si possa assegnare in qualsiasi numero dei desideri. Devo solo trovarla. Leggo. Quattro chiavi dovrebbero essere sufficienti per ora. Ne userevo tre per consegnarle le basi. Quando sarà il momento, le mostrerò la chiave principale del conundrum. Sarà in grado di impostare qualsiasi valore alla macchina, applicarlo direttamente alla chiave AVB. Ho trovato quasi tutte le chiavi, sono giunto a un punto che devo tenere sempre con me un taccuino con gli schemi per accedere. Ok. Questo non si sa cosa sia. Prendo. E me la tengo, in modo che posso consultarmela quando voglio. Qua non c'è nulla. Possiamo di qua. Si potranno prendere nuove abilità e in casa si aggiungeranno sempre più nuove persone che ci permetteranno di, come avevo già mostrato, tatuarci addosso varie abilità. Il fatto che il gioco venga dipinto come legnoso, devo dire la verità, un pochino sì. Con la verità anche nell'attacco non è così. Ma è probabilmente questione di... Cioè non si sente che sia un limite fisico. È proprio studiato in questo modo che appare proprio legnoso come combattimento. Non è un... del CELS. Quindi ci si deve fare l'abitudine. Non nego che non ci faremo l'abitudine, insomma. Però... Questa è una critica che condivido. Però si vede c'è tanta cura comunque anche i particolari. Ecco. Appunto. Curati. Scusa ma se io sparsi. Eh, problema risolto. Di qua dove si va? Quadro del... Vedete qua abbiamo la doppia scelta. Salire. Oppure vedere il quadro. Io guardo il quadro. Vedete queste sono le particolarità di questo gioco. Cioè ci va a far zoomare su varie cose da cui possiamo trarne dei particolari. Si parla comunque della grande guerra. Perché il tema è un po' quello. Gli anni sono quelli dei lovecraft. Quindi... Lovecraft style insomma. I custodi delle chiavi dovranno morire. Se desideri tornare a casa, Benedicte. Ok. Andiamo con i custodi delle chiavi. Vedete che... Ok. Sto iniziando a prenderci la mano. Bisogna... Ah, che cacchio. Sono quasi morto. Ok. Qua abbiamo fatto. Libera la donna misteriosa. No, ma scusate. A me sfugge una cosa. Ah, questa è la parata. Ok. Mentre... Mi sfugge... Questo è il compagno. Che non so che cosa mi fa fare, ma... E lì sopra c'è qualcosa. Fatemi vedere la mappa. Perché mi intripa abbastanza. Qua sotto si va da qualche parte. Qua si va... Completamento aria. Ancoraggi sbloccati. Ah, ok. Ne ho preso un altro di ancoraggio. Perché c'era l'ancoraggio iniziale. E siamo dentro, ricordo di... Credo il nostro padre alla fine. Perché siamo in questo limbo. Ma... Non mi ricordo. Fatemi dare un'occhiata. Le impostazioni. La schivata. Ve l'ha schivata. Eh, no. Non in inglese e in italiano. No. Impostazioni. Le impostazioni. Le impostazioni. Bloccare quello. Eh, scuovere. Schiva. Ah, ok. Ok. Scopo. Un po' scomodo. Però sì, possiamo schivare. Avanti e indietro con lo stick destra. Perfetto. Vediamo. Questo inchiesto disgustoso sembra appiccicarsi a tutto. L'ego di tuo padre ha sofferto più di quanto ci aspettassimo. È malato. Divorato dall'infezione. Macerato dalla cancarina. Benedict. Figo. Ma sapete che mi piace? C'è un po' scopo. Di puzzle adesso non ve li ho fatte vedere in... In... Prima. Piano di sopra c'è comunque il pianoforte da suonare con le note giuste. Per aprire comunque il forziere o quello che c'è dentro il pianoforte. Qua non so cosa devo fare ma credo che... Continua a farmi molto male. Fortunatamente non mi uccide. Non mi uccide. Vediamo qua cos'è. Ahia. Questo mi uccide invece. Mi fa molto male. E devo continuare ad andare avanti. Cos'è questo? Spero di riuscire a... Nooo. Sì perché ovviamente si sente anche il peso del personaggio quindi... Ok dai ripartiamo al punto d'ancoraggio quello che abbiamo sbloccato da poco quindi possiamo andare avanti. Ma credo che abbiamo già comunque visto abbastanza... di quelle che sono le basi del gioco. Perché poi in realtà... Perché poi in realtà... Tiro ti fuori dal vuoto e il limbo ti ha esiliato. No perché dicevo non abbiamo ancora visto niente. Perché ci sono un sacco di cose che poi vanno a sbloccarsi ma questo è il bello. Per cui poi voi vedete il video e vi piace il gioco. Insomma vi intrippate e magari ve lo prendete anche non lo so. Adesso vediamo se ho un po' imparato. Questo attacca a distanza. Sì non mi ha fatto male. Merda ho dimenticato il tasto. Anche adesso. Questo mi ha ucciso di nuovo. Ok. Cioè praticamente tenendo premuto mi cura del tutto. Tenendo premuto una volta mi cura solo un punto vita. Non so che senso abbia curarmi di un solo punto vita quando posso curarmi tutto ma va bene. Un ricordo imbarazzante che viene analizzato più e più volte è vergonoso, fastidioso, sgradevole e persino per me. Non c'è fatto niente di lui? Questo è un ricordo. Cosa è questo? Non c'è nulla da fare qui. Però c'è quello che ci sta. Ok. Non so cosa ho fatto. Però so che bisogna andare qua sotto. Devo abituarmi con il... Ok. Abbiamo ucciso anche questo. Quindi tecnicamente dovremmo avere liberato dalle onde blu quel coso. Infatti abbiamo un passaggio. Rifornisci oggetti. Teletrasportati. Fissa inchiostro. Ok. Abbiamo preso quello per curarci. Fissa inchiostro. Non so cosa sia. Teletrasportati. Non so neanche io che cosa sia. Nemmeno io quello. Ok. Però qua va avanti. Quindi bisogna continuare a esplorare il ricordo. Una porta. Non abbiamo niente. Però credo sotto qui ci sia qualcos'altro. Mi sembra ci fosse un punto di domanda anche qua. No. Probabilmente. Nel bagnato sotto c'è qualcosa. Sotto qua. Si muore lì. Si muore. Però c'è qualcosa lì sotto. Sotto. Di qua non siamo andati. Eh no. Risponderò di qua. Si può sparare magari. Niente c'è qualcosa là. Se no torniamo su e vediamo cosa succede. No. Non c'è niente. Se continuiamo a morire. Sono morto di nuovo. No. Abbiamo ancora un punto vita. Allora. Diamo un'occhiata. A cosa c'è di là. Ah no. Aspettate un secondo. Di qua. Di qua siamo già andati. C'era qualcosa anche di là. Però vediamo che cos'è quel punto lì. Magari quello lì ci porta da qualche parte. In cui non siamo mai stati. Vediamo. Rifornisce oggetti. Teletrasportati. Ah. Ok. Ok. Allora. Vedete che qua è connesso il nostro padre. E' con il ricordo. Quindi. Torniamo nei vari punti che abbiamo visto. Interessante. E' interessante sta cosa. Poi come vi dicevo. Adesso noi non li vediamo ancora. Ma ci sono poi i menu. Per potenziare il nostro personaggio. Al momento vediamo solo le missioni. E basta. Poi andranno a completare il tutto. La presenza appunto del tatuatore. Ma di qua. Mi scusi. Allora. Se salto su. È un punto che non ho mai visto questo. Eh sì. Non l'avevo visto prima. Mannaggia. Non si vedeva. Cioè c'era. Vabbè. Ecco. Bisogna andare veloci. Direi che. Non male. Pettine ornamentale. Ecco questo. È una peculiarità. Che vi ho già detto. Ci ha dato questi punti in alto a destra. Che non ho capito cosa sono. Non saranno da spendere. Probabilmente. E qua vediamo. Il nostro amico. Che ci commenta. L'oggetto che abbiamo appena trovato. Me lo tengo. Ma mi serve qualcosa. Un'altra cosa. Che mi sembra assurda. Leggevo su Steam. Le recensioni. E qualcuno diceva. Tonnellate di oggetti. Che poi non usi. Sì. Sono sicuro. Quel pettine. Magari non avrà un utilizzo. Ma è l'ora. Cioè. Se volete giocare a Metroidvania. Picchiare. 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 Giocate a Dead Cells. O altri. Ma qua fa tutto l'ora. Cioè. È fighissimo. Come cosa. Poi graficamente mi piace. Che poi è la parte meno importante. Però. Legnoso. Un pochino. Ma. Se poi. Ci prendete la mano. E imparate a giocarlo. Perché no. Ho ancora capito. Che è per testere. Questo mio. Compagno qua. Ma. Non è sicuramente. Comodissimo. La schivata. Con il tasto. Con lo stick destro. Bisogna avere una buona manualità. Cioè. Non sono comodissimi i comandi. Però voglio dire. Guido un'auto sportiva. E. E mi lamento. Perché i sedili. Non sono in pelle. Cioè. Non ha senso. Mi abituo. Insomma. Sì. Si potevano fare dei commenti un po' più. Si possono cambiare. Comunque. Non. Non mi lamento. Non mi lamento di questo. Perché. Non mi dispiace il gioco. Assolutamente. Cioè. Allora. Me l'avevano presentato in un modo. Quando io ho visto il. Il gameplay. Il 20 minuti. Adesso il gameplay che c'era nella conferenza. Un quarto d'ora. Adesso mi ricordo. Ma non mi viene da dire. Che mi aspettavo qualcosa di diverso. È esattamente quello che mi aspettavo fosse. Si possono criticare. Dicevo. I comandi. Forse quello sì. Officially. Il gioco è quello che mi aspettavo. Qua sotto c'è qualcosa però. Che non ho visto. Infatti. Teschio deformato. Non ha qualcosa di. Che bello. Si è fatto bene. Creatura, intelligenza e sembianze umane. Omuncolo. Va bene. Stiamo esplorando i meandri del limbo. Della mente di nostro padre. Per capire com'è morto. Vediamo un po'. È qua ragazzi. Io non so come andare avanti. Perché. Dovrei andare lì sopra. E vedere. Se c'è qualcosa. Quindi. Dovremo tornare su. Teoricamente da qui. E poi. Andare di là. Ma probabilmente. Si intende. No. Andiamo di là. Andiamo in fondo. Poi saltiamo su. E vediamo dove ho trovato qualcosa. Perché una delle missioni che abbiamo. Trovato tutti i fogli di carta. Con gli indizi. Vedete qua. Credo sia qui. Devo saltare su. E poi saltare ancora su. Infatti qua non ci sono stato. No. Adesso ho capito un po' più la tempistica. Quindi. Tutto ok. No. Non si può saltare su. Mannaggia. Non ho abbastanza salto. Se facessi il doppio salto. No. Devo tenere premuto. Perché mi compare. A un certo punto. Eh no. Non ci arrivo su. Peccato. Peccato. Ma qua non ci posso andare. Qui ci sarà. Ci sarà sicuramente un modo. Lì sotto però. Andando tutto a destra. Dovrebbe esserci qualcosa. Andando sotto. Qui sotto. E anche lì sarà una zona non aggiungibile. Infatti. Mannaggia. Non si può andare su lì. E anche da di là. Non c'è nulla. Quindi devo. Vediamo se andando qua in fondo. C'è qualcosa ma. Sono zone inaccessibili. Non abbiamo ancora abbastanza salto. E sarà sicuramente una zona. In cui potremo tornare. Quando saremo in grado. Di saltare più in alto. Perché infatti di là. C'era qualcosa. Così come qua sopra. Vabbè. Allora. Se io tornassi su. Come si fa. Così. Ah. Devo fissare l'inchiostro. Perché sennò lo perdo. Vabbè. Ma sì. Dai torniamo su. Tanto siamo a fine video. Perché è come le anime. Insomma. Bisogna andare a fissarmi. Come abbiamo fatto prima. In un punto di teletrasporto. In modo da potercelo tenere. Nel momento in cui usciamo. Ma se io volessi uscire. Adesso dallo ricordo. No. Non si può tornare indietro. Posso magari tornare indietro così. Qui. Esco. E vado giù. Ma magari c'è qualcuno. È arrivato qualcuno in casa. Non lo so. Però penso debba finire il ricordo. lì sotto. Non si c'è la scala. Ma c'era qualcosa anche qua in fondo. Giusto per. Completare. Porta con simbolo. Eh sì. Anche qui. È ruota a destra. Eh sì. Ma poi ci si arriva. E andando a caso. Non sono tanti i simboli. Vabbè. Vediamo qua. Dopo il corpo. Che cosa c'è? Perché mi segnava un punto di domanda anche lì. Porta chiavi con ganci. Ok. Vedete che poi ci sono interagisci. Scegli chiave. Prendo. Ok. Quindi si è chiusa la porta. Devo mettere le chiavi giuste. Vediamo. No. Ok. Qua funziona. Questa chiave probabilmente va qui. Ok. E ci manca una chiave però. Che al momento non l'abbiamo ancora. Quindi dovremmo recuperarla anche in magari in casa. E la cosa interessante è che adesso ci possiamo andare. Cioè saliamo. Proviamo ad aprire le porte. E cerchiamo questa maledetta chiave. Però direi che come prima vista. Adesso io vi faccio vedere anche il piano di sopra. Che non. Che io ho già visto ma. In realtà voi no. In cui abbiamo il pianoforte. Potete andare a suonare. Qua è comodo avere la. Il pad. Perché invece che usare. WSD e JKLi. Potete usare. E bisognerebbe suonare. Ma non so cosa. E poi vabbè niente. Qua di sopra non c'è nulla. Qua sotto c'è la porta. E qua abbiamo ottenuto dei frammenti. Sì. Questa è una casa. Ma non credo. Poi magari mi sbaglio. Ma non credo sia poi quella che diventerà. La nostra casa finale. Dove avremo tutte le persone che ci daranno una mano. O magari sì. Non lo so. Devo ancora. Devo ancora esplorarla un pochino. No magari potrebbe essere già anche questa. La casa. Chi lo sa. Sicuramente. Posso andare a caso. E provare tutti i simboli. Però mi piacerebbe. Vedete si può fare così. E bene o male. Prima o poi. La combinazione la troviamo. Sono un po' di combinazioni. Ma. Si può provare. Non finiamo più. Ho fatto un giro solo. E questo l'avevamo già fatto. E dopodiché facciamo questo. Non mi piace molto fare ste cose. Perché è un po' un tentare a caso. Quando magari il simbolo è disegnato da qualche parte. Magari qualcuno di voi lo ha già notato. E me lo scriverà sotto. Però. Pazienza. Beh niente. Ci ho rinunciato. Perché dovevamo comunque premere. Anche apari. Sotto ognuna. Quindi. Ti passa un po' la voglia. Secondo me bisogna solo investigare. Intorno. E cercare di capire. Dove può essere scritto il simbolo. Magari scritto nei ricordi. Quindi bisogna andare sotto nel ricordo. O magari scritto in casa da qualche parte. Quindi. Ci darò un'occhiata. Ragazzi. Per intanto. Fatemi sapere anche voi. Che cosa ne pensate di questo titolo. E. Sì. Infatti vedete che ci apre la porta ogni volta. Quindi bisogna per forza. Tentare uno per uno. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questo sotto nei commenti. E noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao.